Andrea De Carlo, siamo al Festival della Comunicazione di Camoglie. La lezione che tiene è una lezione che parla di romanzo polifonico. Lei è uno scrittore, un musicista. Innanzitutto, che cosa dobbiamo sapere sulla relazione che c'è tra la musica polifonica e il modo di scrivere un romanzo? C'è una relazione molto forte. Io sono sempre molto consapevolmente scrivo, ma anche poi come lettore, quando leggo del suono di una pagina, del suono delle parole, del modo in cui vengono concatenate e creano delle situazioni ritmiche, oppure del modo in cui anche una singola parola può creare un riverbero, un eco sonora, ogni parola ha una sua musicalità e di questo sono consapevole. Quando scrivo ho sempre un piede un po' che batte il tempo, per esempio quando scrivo un dialogo molto il senso del ritmo con cui si deve svolgere, ma anche quando semplicemente descrivo che ci sia un tempo musicale in ogni descrizione e in fondo in ogni paragrafo. Le emozioni stesse hanno un ritmo e noi siamo catturati da quelle cose che succedono a un tempo specifico. Sì, appunto. Poi la musica è proprio quella. La musica è una questione anche proprio di misure. Quindi è uno spazio che viene limitato, in cui l'espressività viene data proprio dalla misura con cui viene resa. Quindi questa parte musicale della scrittura credo sia molto importante. A volte da lettore mi capita di scoprire che certi scrittori sono un po' sordi da questo punto di vista, non sono molto cerebrali ma hanno poco la percezione appunto del suono della scrittura. Ora, il tema che lei però affronta è quello del romanzo polifonico, nel senso di, credo, più voci. Ce ne parli un attimo, qual è la sua teoria rispetto a questo? Questo, devo dire, è un po' il punto di arrivo di un percorso lungo di romanziere che hai cominciato usando la prima persona, che è una forma estremamente diretta, ha dei grandi vantaggi in termini di capacità di rappresentare in modo vivo e estremamente immediato le sensazioni di un protagonista, i suoi stati d'animo. Però ho anche il limite di essere inchiodato appunto a quella prospettiva, solo quel punto di vista. Nel corso della mia personale ricerca di romanzi in romanzo sono arrivato a un punto in cui mi è venuta voglia di allontanarmi molto dall'idea di un personaggio che più o meno coincide con il narratore e esplorare invece le ragioni, i motivi, i linguaggi, i modi di personaggi diversissimi fra loro e diversissimi da me. Il mio ultimo, per esempio, romanzo che si chiama Villa Metafora aveva dodici personaggi principali, cioè dei veri protagonisti, ma diversissimi fra loro. Andavano dal grande banchiere tedesco all'attricetta americana, alla giornalista francese un po' snob, all'architetto milanese che vive in un mondo appunto di riferimenti chiusi. Tutto questo, una volta rotta la barriera dello stereotipo, appunto uno dice il banchiere tedesco, sì, me lo posso immaginare, abbiamo visto delle sue fotografie, ma se comincia ad entrare nei suoi panni, a essere proprio nelle sue scarpe, scopri che nascondi una complessità enorme, cioè che esplorare delle forme mentali e di vita diverse dalle tue è un'avventura straordinaria. Ecco, quanto diventa complesso nella fase di scrittura e di concezione di un romanzo polifonico il concertare tutte le voci per poi definire e allo stesso tempo imporre al lettore quello che poi è un filo narrativo unico, concreto, coerente. Ecco, questa è proprio la cosa cruciale, cioè per seguire un filo, appunto, seguire una trama o comunque un percorso che è quello che tu vuoi dare alla narrazione e non perderti poi in ognuno di questi mondi, perché poi in ognuno di questi mondi potresti restarci anche per sempre, per riferirle più fuori, oppure dilatare le cose al punto tale che, per esempio, il punto di vista di uno di questi personaggi è un po' come lavorare con degli strumenti, appunto, per tornare alla metafora musicale, è come avere un violino, un violoncello, un contrabbasso e a ognuno devi assegnare una parte e poi devono funzionare nell'insieme, cioè l'insieme delle voci, l'insieme delle ragioni, deve poi alla fine funzionare come, appunto, come romanzo, quindi come struttura narrativa che ti conquista, che ti trascina con sé, perché poi alla fine è quello uno, nel romanzo, attraverso il romanzo, cerca di conquistare l'attenzione di chi legge e di tenerla. Avrebbe da dire che forse il romanzo polifonico è quello meglio rappresentante il nostro modo di vivere la vita, perché noi siamo immersi in un racconto che è polifonico. Io credo di sì, sempre di più, siamo, anzi, forse mai come adesso, siamo esposti a una varietà di informazioni, di punti di vista, di immagini che arrivano da tutto il mondo, cioè in realtà non credo sia mai stato così, qualunque cosa succeda veramente dall'altra parte del mondo ci arriva in tempo reale e siamo coinvolti poi, non possiamo più dire, come si faceva un tempo, questo succede, non so, nelle lontane Indie, succede in Cina, quindi è un avvenimento così remoto che non ci riguarda, ormai tutto ci riguarda e in più ci sono linguaggi che interferiscono continuamente con la nostra vita, tutti i linguaggi possibili attraverso gli strumenti elettronici, attraverso i telefonini, attraverso internet, e abbiamo a che fare con tutto questo, cioè viviamo sempre su vari livelli, anche di narrazione proprio. È curioso perché quello che lei dice è giusto, lei come romanziere ha la sfida di far sì che queste voci parlino insieme, raccontando, seguendo un filo di un racconto senza sovrapporsi, ma noi siamo sempre più soverchiati da una serie di voci che parlano insieme attraverso canali diversi, contemporaneamente, generando molto rumore e dobbiamo gestirle, no? Dobbiamo gestirle, dobbiamo imparare a proteggersi, ma dobbiamo anche imparare a perseguire un filo, appunto parlavamo prima di un filo narrativo. Quello che succede è che il filo della nostra attenzione viene spezzato sempre più frequentemente da molti segnali che arrivano, la gran parte dei quali sono insignificanti, non ci riguardano, e molto spesso sono segnali legati a delle individualità, sono dei micro racconti, cioè ognuno vuole raccontarsi, mandando un messaggio, parlando della vacanza che sta facendo, dell'aperitivo che ha bevuto, del successo che ha avuto col suo lavoro, però tutto questo ci tempesta continuamente e sempre più spesso ci impedisce di essere attenti abbastanza a lungo da capire veramente cosa succede. Io trovo che un romanzo ancora permetta quella dimensione di continuità, in realtà la impone, se uno non riesce a trovare il tempo per leggere, non riesce a entrare in un romanzo. Guardi, un'ottima domanda poi la lascio andare, ma i suoi romanzi, quando scrive i suoi romanzi, quelli che ha scritto, quelli che scriverà, generalmente ha sempre più o meno lo stesso ritmo, quindi che genere di musica le dà il ritmo per scrivere? Oppure c'è generi diversi, per esempio ogni libro ha il suo? Ogni genere ha il suo, cioè ogni libro ha il suo, perché poi ogni romanzo per esempio ha un suo arco temporale, mi è capitato di scrivere storie che si svolgono nell'arco di 30 anni, quindi anche musicalmente comprendono dimensioni molto diverse, e romanzi che invece sono molto più concentrati, l'ultimo che ho scritto che si chiama Cuore Primitivo è concentrato addirittura in cinque giorni di tempo, quindi ha una specie di compressione anche di tempi da narrazione, di sentimenti che si schiacciano un po' uno sull'altro, perché hanno quest'urgenza di uscire, ma hanno anche poco tempo per manifestarsi, quindi anche la musica che immagino è una musica percussiva, pulsante in questo caso, in altri la musica può essere più dilatata, può variare, può aprirsi, ramificarsi, davvero ogni romanzo che trova bisogno della sua musica. Ringrazio Andrea De Carlo per questa visione musicale potente della parola raccontata e che racconta e ridò la linea allo studio.